Questa mattina mi sono portato in questura a Crema per presentare sul suggerimento delle stesse comunità un'esposta riguardo agli episodi oltreaggiosi da mia università che sono diplomati tra luglio e settembre 2019. In particolare è la notte della Sagra Patronale di San Bernardino del 10 settembre. Intorno alle 13 volte diversi regolini si sono presentati sotto la mia finestra e in piazza della Chiesa per urlare ripetute offese e le stegne udite anche avvicinate. Gli autori di tale vicende ripresi tra l'altro dalle nuove telecamere di sorveglianza sono da quelli finti che hanno frequentato spesso il nostro lavoro e con cui ho sempre tentato di mantenere un diavolo sincero e paterno, sperando di capire il motivo di tante acrime e neurofine. l'accoglienza per loro non è mai iniziativa, ma tale fiducia controllo non è stata corrisposta. ho quindi presentato la risposta come estremamente, con profondo rabbia, dopo un mese e anni fa, e anche dopo un lungo discernimento nella mia vita, anche dal rispetto di tante volontà che si migliorano generosamente a favore delle nostre nuove comunità. Nel continuare, e non mi stancherò, di ripetere dopo un giorno, la mia missione di sacerdotale per tutti, con una speciale attenzione, proprio e gioco in cui mi è contattuale, ma domani, sorrendo dal nostro affetto, vi chiedo di pregare con me, il Signore, affinché i nostri ammarrocchi sono sempre un luogo di condivisione e di crescita, ma di rischio.